Qual è il mercato più carino dell'Emilia Romagna? Budrio Un vaso rarissimo degli anni 30 Distilleria Fratelli Grosso Un paese meraviglioso, di gente simpatica, gioviale, non aggiungo altro Ci vediamo a Budrio la terza domenica di ogni mese Sembra una catana Ma invece non lo è, perché questo sarebbe un coltello Ferrarosti con il suo vero porchettone Cosa si trova a Budrio? Di tutto, anche i bagni Che sono a fondo intrigati Ciao, ci vediamo a Budrio Ciao